Bene, eccoci qui in questo nuovo appuntamento con i video tutorial per Photoshop Allora, oggi andremo a realizzare un effetto jeans Un effetto jeans che possiamo utilizzare per i nostri clienti Come potrebbe essere una sartoria Come potrebbe essere una sarta che si è messa in proprio e vuole iniziare a proporsi O possiamo utilizzare questo effetto realistico di jeans Per creare dei design assolutamente fuori dagli schemi Dunque, iniziamo subito, il colore del jeans possiamo sceglierlo Andremo sul classico Sceglieremo questo colore qui Quindi nel primo livello andiamo a riempire il nostro primo livello con un blu 043059 E andiamo a colorare Subito dopo creiamo un nuovo livello Andiamo a dare un po' di colore Un po' troppo fermo questo colore qui Dunque, andiamo a selezionare Ecco qui, è già selezionata tra le mie sfumature personalizzate Andiamo a creare, a selezionare una sfumatura che vada Comunque da una tonalità di blu che si avvicina a questa Una leggermente più chiara perché andremo a dare un tocco di luce Dunque, sfumatura radiale Ci posizioniamo al centro o dove vogliamo E andiamo a tracciare una bella linea per dare un po' di sfumatura Adesso giocheremo un po' con i livelli di fusione Con i metodi di fusione Per cercare magari quella che può essere la soluzione migliore Già moltiplica, secondo me, la dice lunga su questo effetto Perché rende già bene l'idea di un jeans che ha un leggero tocco di luce Però possiamo provare a vedere anche luce vivida Magari un po' troppo forte Allora Ecco, luce soffusa forse è meglio Ok Adesso che si fa? Abbiamo selezionato O meglio, si, selezionato Il metodo di fusione su luce soffusa Adesso dobbiamo unire i due livelli Come si fa a unire i due livelli? Abbiamo solo i due livelli O facciamo il tasto destro Sul livello E facciamo unisci sotto Oppure unico livello E abbiamo unito i due livelli Applicando E sfruttando Il metodo di fusione E quindi i due colori Adesso andiamo a sbloccare il livello Doppio clic sul livello sfondo Che si è creato E lo sblocchiamo Applichiamo un filtro Disturbo E aggiungiamo un po' di disturbo 5 va bene in questo caso Possiamo mantenersi fra i 4 e i 5 Io lascerò 5,2 Dai facciamo così Un po' più di 5 5 Una distribuzione uniforme o gaussiana In realtà non cambia molto Però uniforme Diciamo Essendo un tessuto Essendo una cosa industriale Quindi Avendo delle procedure fisse Uniforme Forse in questo caso È leggermente meglio Anche se in realtà La differenza non è che si nota tonto È monocromatico E confermiamo A questo punto Arriva La vera e propria magia Nuovo file Creiamo un file Di 5 pixel per 5 pixel 5 per 5 Sblocchiamo Il livello sfondo Ok Ovviamente non si può lavorare con questo puntino Andiamo a zoomare al massimo E portiamo Lo zoom Al massimo Insomma Dalla rotellina Qui Benissimo CTRL A Per selezionare tutto Abbiamo già sbloccato Il livello È già sbloccato E cancelliamo CTRL D Deselezioniamo Prendiamo Lo strumento matita E Prendiamo Un pennello matita Quadrato Quindi Di 1 pixel Andiamo a selezionare Un colore Che si Parta dalla paletta Del blu Però sia un colore Abbastanza scuro Penso che vada bene Questo 04 26 36 E andiamo Ad applicare Dei Quadratini Diagonali Andiamo a colorare Dei pixel Solo 5 Opla Ne ho fatti un po' troppi Ok Non dobbiamo fare quasi nient'altro Modifica Definisci pattern Quindi definiamo questa striscia Come un pattern Che andremo a far ripetere Nel nostro tessuto Ok Rimaniamo sul livello Precedente E andiamo a fare Modifica Riempi Patter Usa pattern E andiamo a selezionare L'ultimo Eccolo qui Come puoi vedere Qui ci sono Delle prove Che ho fatto prima Ok Andiamo a zoomare un po' E' o non è Un effetto Jeans Tessuto Super realistico Ovviamente è un po' nuovo Usatelo un po' Per zoomarlo Ok Questo è il primo Video tutorial Ne seguirà un altro Con Un effetto Tasca Andremo a realizzare Una vera e propria tasca Se qualcuno di voi Riesce Già A Creare Una tasca E vuol creare Un Un email Quindi mi vuol contattare E me lo vuol mostrare Io sarò ben lieto Di Vedere Revisionare Il tuo video tutorial Lasciami dire Che E' abbastanza Semplice Creare delle forme Che abbiano Comunque questo effetto E' abbastanza semplice Faccio un esempio Velocissimo Non mi trattengo Oltre Prendiamo lo strumento Forma Ne seleziono Una forma Qualsiasi Magari Prendo questa forma Qui Che sembra quasi Una tasca Al contrario Vediamo così Molto Velocemente Ecco qui Sto semplicemente Modificando i punti Di ancoraggio La ruoto Ovviamente le tasche Non sono proprio così Però Facciamo così Seleziono questi Punti di ancoraggio Seleziono questi Altri punti di ancoraggio E diciamo Che in linea di massima Questa è una tasca Andiamo a creare La nostra Selezione Stratto di sfumatura Zero Duplichiamo il livello Tasto destro Duplica il livello E rimanendo Con la selezione Attiva E il livello Coppia Che chiameremo Tasca Andiamo a cliccare Su maschera Per creare La nostra maschera Adesso vediamo Qual è la differenza Ecco qua Vediamo la nostra Tasca Che già si muove Allora Andiamo ad applicare Velocemente Un'ombra esterna Ovviamente qua c'è da fare Una serie di effetti Per rendere la cosa Sempre più realistica Io Non Non ho detto Che avrei creato La tasca Ma bensì vi avrei Mostrato L'effetto Jeans Dunque qua si può Giocare un po' Con le Con i I rilievi Creare delle Cuciture ad hoc Con una tecnica Che Vi mostrerò In futuro E supponiamo Ok mi fermo qui Però insomma È abbastanza Chiaro È Facile da capire Che Questo effetto È abbastanza Potente Soprattutto se si vuole Creare un design Immaginiamo qua magari Delle icone di facebook O di twitter Che escono Ma appena Ci avviciniamo Insomma La fantasia Non ha limiti Nel web design Bene Per questo video tutorial È tutto Spero di averti dato Una buona idea Per una realizzazione Di un buon Design Creativo Per oggi È tutto Io ti saluto Ciao E a presto